Le preoccupazioni sono quelle degli ultimi anni e riguardano una disoccupazione soprattutto giovanile in crescita, ma anche quella riconoscibilità nel mondo sanitario che si fatica a conquistare in attesa che si compi in maniera definitiva la rivoluzione della professione. Gli infermieri in questa loro battaglia non hanno nessuna intenzione di cedere campo, anzi provano a rilanciare le loro posizioni facendo fronte comune. Per questo si sono dati appuntamento da giovedì a sabato prossimi a pugno chiuso sul Gargano per una tre giorni promossa dal collegio Ipasvi della provincia di Bari alla quale hanno aderito altri 19 collegi professionali di tutta Italia. Per questo l'appuntamento pugliese ha tutte le caratteristiche degli stati generali della professione infermieristica in un momento storico nel quale il mondo sanitario attraversa una fase di confusione e sul fronte occupazionale si registrano sempre più partenze di giovani infermieri verso altri paesi europei. Nel momento in cui sono di carlunghi inferiori i finanziamenti pubblici il cittadino è sempre più costretto a mettere tasca al proprio portafoglio, c'è un tentativo di rivalutare il ruolo delle professioni sanitarie e rispetto a questa esigenza che è nei fatti e nelle cose ci sono forti resistenti, forse resistenti legate a finalità di corporativismo, finalità di tutela e di difesa a tutti i costi del posizionamento delle professioni cosiddette storiche nel panorama sanitario, insomma c'è di tutto di più, ma c'è anche, e questo bisogna sottolinearlo, la nostra incapacità di testimoniare ai cittadini il nostro valore. Sono tanti i giovani colleghi che oggi sono costretti ad emigrare verso paesi europei europei che vengono in Italia per reclutare infermieri. I nostri infermieri quindi vengono formati in Italia e quindi esportati in altri paesi. Questo esodo secondo me va affermato con delle leggi chiare che vadano ad esempio ad individuare il numero minimo nelle dotazioni organiche degli infermieri, per cui noi rilanciamo e rilanceremo a pugno chiuso queste nostre idee proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri infermieri.